Ragazzi, abbiamo appena guardato il fiume, come vedete, siamo in abbigliamento da mare. Siamo al 28 febbraio, è giusto? 28 febbraio le 10. Adesso tenteremo di farci un rispetto, l'acqua lo sta a saporare, è un quanto frizzante direi. No, dai, non esageriamo, più geli da no, quasi. Però dopo essere stato a Stoccolma, a meno 23, non mi può sentire, assolutamente da questa prova. Proprio matto. Dai, se no, ti prego. Ho freddo, ho freddo da parte tua. Bravamia, no, se no. Ma lo vuole fare, lo fa. No, anche la nuova tassina.